La Chiesa Grigentina si prepara a due eventi liturgici ormai alle porte. Il primo è in programma dopodomani, mercoledì, delle ceneri. L'arcivesco Francesco Montenegro presiderà la messa alle ore 20 nella Chiesa della Badiola, nel centro storico. Il momento è più significativo ed atteso, ovviamente, il rito di benedizione in posizione delle ceneri. Poi, riflettere accesi sui festeggiamenti in onore di San Gerlando, l'Arcidio ci sarà reso noto il programma. Si parte il 19 febbraio. La memoria liturgica, prevista per il 25 quest'anno, è stata rinviata a lunedì 26 febbraio per la coincidenza con la prima domenica di quaresima. Il busto reliquiario di San Gerlando, custodito nel Museo Diocesano di Grigento, visiterà le comunità della diocese e quest'anno sarà portato nelle comunità del Belice dal 19 al 23 febbraio, che 50 anni fa furono colpite dal terremoto. Tra i momenti culturali, la mostra fotografica Reflex Cattedra, allestita nella Chiesa del Purgatorio, nel Polo Culturale San Lorenzo di Grigento. I maggiori fotografi regionali esporranno definizioni non canoniche della cattedrale di Grigento. Al Museo Diocesano di Via Duomo, dal 23 al 27 febbraio, si terrà la mostra, l'abito liturgico e un compito, dalla pianeta alla casola. Sempre al Mudea, il 20 al 22 febbraio, l'associazione Ecclesia Viva terrà i lavoratori sulla figura di San Gerlando, in particolare sulla leggenda del Drago. Nel giorno della memoria, la diocese di Mileto, dove San Gerlando fu primicerio del capitolo, ha organizzato un pellegrinaggio guidato dal vescovo Luigi Renzo. Il momento centrale dei festeggiamenti sarà dunque il 26 febbraio. Alle 16 la processione con il busto reliquiario per le vie del centro storico. Alle 17.30 la messa pontificale nella Chiesa di Sant'Alfonso, con la preghiera del Corpo della Polizia Municipale di Palazzo dei Giganti. Infine alle 18.30 la processione verso la cattedrale. Quest'anno l'offerta dell'olio per la lampada votiva di San Gerlando sarà affidata alle comunità ecclesiali delle Belice.